Alla fine è stata una partita difficile. Complimenti a Alessandra che è venuto con tanta energia. Hanno giocato bene, noi abbiamo fatto gli errori dietro. Peccato in questa partita. Quando loro fanno il primo gol diventa sempre una partita difficile, ma come tu hai detto abbiamo dimostrato che siamo una squadra e abbiamo cambiato la partita alla fine. Siamo contenti per andare al prossimo rondo. È stato emozionato solo con un po' di tifosi. Aspettiamo anche i resti. Non vedo l'ora anche per il sud e anche altri tifosi che possono venire perché è un altro mondo anche per noi giocatori a giocare con i tifosi. Diventa il calcio vero è bellissimo così. Dobbiamo continuare. Aspettiamo gli altri tifosi. Ho scelto il numero due perché non a sopra andare i due gradi è il primo obiettivo dell'agrimento di Parigi. Siamo in una crisi climatici. Questo è un messaggio importante. Io sono appassionato per queste tematiche e per l'ambiente. Volevo fare questo simbolo per crescere la colsa in purezza e anche fare un bel gesto. È stato bello fare il primo gol anche con il numero due. Speriamo che continua così, che facciamo più gol di scorso anno. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare questa settimana. Così siamo pronti per l'uno contro una a Milan che è ovviamente fortissimo e dobbiamo essere al cento per cento.